E' durata soltanto 26 minuti la partita tra Vasto Girardi e Campobasso 26 e 31 per l'esattezza. Arrivato il triplice fischio del direttore di gara anzitempo, viene sospeso l'undicesimo turno per poca visibilità con tutta la nebbia. Come potete guardare alle mie spalle è impossibilitato a giocare sia il Lupo che il Vasto Girardi. La gara verrà recuperata a data ancora da definire, dunque questa è la situazione per una prima parte di gara in cui il Vasto Girardi ha giocato particolarmente bene. Diverse occasioni, un lupo un po' spento, poi il fischio del direttore di gara che ha sospeso il match al 26esimo. Dunque questo è quanto maturato qui al Ditella di Vasto Girardi. Noi dobbiamo affrontare, le altre squadre che ci affrontano iniziano sempre in una maniera sempre aggressiva, comunque con tanta motivazione. Noi dobbiamo andare oltre a questo perché se no poi diventa tutto difficile perché se inizialmente prendiamo ecco questo gol può metterci in difficoltà. Siamo partiti con il 4-3-3 però poi ho visto che avevamo difficoltà in questi cambi di gioco perché loro facevano il 4-4-2 e si ritrovavano con l'esterno spesso solo che puntava l'uomo come è venuto il cross dopo la situazione che era capitata all'inizio e quindi ci siamo rimessi di nuovo 3-5-2 però ripeto non siamo partiti bene. La mia... voi dite ma sì non l'abbiamo giocata, poteva cambiare la partita però ecco io sono arrabbiato per il concetto di inizio di partita. Anche il contesto stesso, il viaggio, tutto e quindi queste partite devono essere affrontate con una mentalità diversa. Cioè una mentalità di una squadra che deve essere subito aggressiva, non deve temporeggiare, deve fare soprattutto subito la partita. La mia... voi passare, è sempre insieme a te...